Ci sono soltanto tre modi efficaci per educare, con la paura, con l'ambizione o con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. Questo è il pensiero di Rudolf Steiner, filosofo, pedagogista e fondatore delle scuole Waldorf. In tutto il mondo si contano 870 realtà e 1700 giardini d'infanzia. Per l'anno scolastico 2015-16 a Cremona si aggiungerà all'offerta educativa presente oggi nel campo delle scuole per l'infanzia la prima scuola steineriana che ha sede nella Cascina Marasco, una realtà in cui opera la cooperativa sociale Agropolis. Da settembre 2015 partirà dunque la prima esperienza di pedagogia Steiner Waldorf a Cremona. Il giardino d'infanzia alla Gemma ospiterà bambini dai tre anni all'età scolare. Questo è un luogo d'amore. Lo si respira, lo si vede, lo si può toccare, c'è la natura, ci sono tante energie positive. E quindi trovare questo momento di incontro tra Agropolis e questa nuova iniziativa è stata una cosa che ha richiesto tempo e impegno ma molto naturale dal punto di vista dell'incontro. Al cuore della pedagogia di Rudolf Steiner vi è la convinzione di rispettare il bambino, educarlo con amore e lasciarlo libero. Basta frenesia, momenti di accoglienza e sarà molto legata al tema del gioco. Il gioco per un bambino è fondamentalmente il suo mestiere, la sua attività. Attraverso il gioco sviluppa anche capacità cognitive ma non solo. E quindi molta attenzione alle arti, per esempio, plastico-pittoriche o musicali. Nella scuola dell'infanzia alla Gemma i bambini vivranno in un ambiente agreste, in armonia con la natura, le stagioni, la vita all'aperto consumando pasti cucinati sul posto con prodotti biologici e biodinamici e collaboreranno con gli ospiti della cooperativa Agropolis. Noi abbiamo favorito questo incontro perché abbiamo normalmente un'assiduità con le scuole di Cremona che vengono qui a usufruire dei nostri servizi e delle nostre strutture. Ed è molto interessante la proposta che ci è stata fatta di venire qui a utilizzare il nostro spazio perché noi abbiamo molta stima di questa iniziativa che sarà sicuramente un grande pregio per Cremona. Abbiamo firmato un protocollo di intesa con Agropolis proprio teso alla individuazione di iniziative comune, possibilità di fare esperienze comuni e credo che cominceremo fin da subito. La struttura verrà adeguata alle esigenze dei bambini e a maggio partiranno i lavori mentre le iscrizioni sono già aperte. Da maggio cominceranno i lavori. Le iscrizioni si possono già prendere sul sito steinercremona.it su Facebook è facile trovarci, si possono chiedere informazioni e quindi fin da subito.